Busca è una città di 10.000 abitanti ed è collocata in una felice posizione geografica ai piedi della colina morenica, che la circonda ad anfiteatro e che riparandola da venti freddi le conferisce un clima mite. Ai margini del paese sorge l'azienda agricola di Abrate Mauro, che con la famiglia gestisce quest'impresa familiare. La razza prevalente in stalla è la frisona, ma viene elevata anche la razza piemontese. La razza piemontese è oggi al primo posto in termini di capi allevati tra le razze autoctone da carne e al terzo tra quelle allevate in Italia, dopo la razza frisona e la razza bruna, entrambe da latte. La razione di base è costiuta da fieno, insilati nucleo e sorbo. La razza piemontese è costiuta da fieno, insilati nucleo e sorbo. Grazie a tutti.